Ciao, allora in questo video vi vorrei parlare di tre prodotti che mi sono stati inviati da provare e sono tutti e tre di un'azienda cosmetica che si chiama Eyes & Face vi metto il link i prodotti che vi mostro sono piuttosto particolari perché si tratta di trucchi che però hanno una concezione molto innovativa e sono trucchi appunto correttivi che sono frutto proprio di ricerche scientifiche e sono piuttosto unici nel loro genere allora inizio col parlarvi dell'attivatore di crescita delle ciglia che è in questa confezione e il prodotto si chiama Eyes Essential Lashes come vedete qui e è contenuto appunto in una confezione abbastanza grande insomma e questa è la confezione del prodotto sono 3 ml di prodotto e dura 18 mesi dall'apertura diciamo che lo scovolino se così vogliamo chiamarlo è un po' diverso dai normali mascare infatti vedete che è un pennellino molto sottile e si tratta di un prodotto in colore e in odore si applica sulla rima delle ciglia molto vicino all'attaccatura sia sopra se volete anche sotto se avete problemi di ciglia corte sotto e volendo anche sulle sopracciglia è applicato con un trattamento di 6 settimane e già dalle prime 3 settimane inizierete praticamente a vedere già i primi risultati poi quando finirete il ciclo di altre 3 settimane quindi per un totale di 6 settimane avrete appunto terminato diciamo il ciclo di trattamento comunque ciò non toglie che potete usarlo anche dopo le 6 settimane potete comunque sempre usarlo e praticamente vedrete che darà dopo 6 settimane gli effetti di avere delle ciglia più lunghe allora questo prodotto naturalmente è stato testato diciamo in laboratorio ma non sugli animali è stato testato dermatologicamente non su animali e si tratta come tutti e tra i prodotti che vi faccio vedere di prodotti assolutamente sicuri perché comunque sono certificati io ve ne parlo proprio perché sono tranquilla su questo punto e vedrete che anche se avete comunque gli occhi sensibili o facilmente irritabili potete tranquillamente utilizzarlo non dà assolutamente effetti di pizzicore o di fastidio anzi voi lo applicate una volta al giorno e dopo averlo applicato potete tranquillamente truccarvi quindi non dà nessun effetto fastidioso diciamo e oltretutto appunto si tratta di un gel in colore e in odore che si asciuga anche in fretta quindi voi lo applicate passati 3 o 4 secondi potete mettervi il mascara normale comunque truccarvi come di consueto questo attivatore di crescita delle ciglia può essere indifferentemente utilizzato sia per le ciglia ma anche per le sopracciglia quindi se avete problemi ad esempio di sopracciglia molto rade oppure a volte capita magari quando si depiliano troppo le sopracciglia che ci sono dei buchetti diciamo di spazio senza più peli allora io ve lo consiglio perché questo lo potete tranquillamente praticamente applicare anche sulle zone delle sopracciglia dove non avete più i peli o dove comunque volete infoltirle e quindi può essere utilizzato benissimo anche sulle sopracciglia ho notato sicuramente un infoltimento e proprio un elasticità maggiore delle ciglia infatti questo prodotto oltre a far ricrescere i peli delle ciglia praticamente dà anche un'azione rinforzante del pelo e infoltente quindi vi sentirete proprio diciamo le ciglia più forti e questa ad esempio è una particolarità che io ho sentito subito appena diciamo l'ho utilizzato per un po' di tempo è una cosa che effettivamente ho avvertito quindi questo sicuramente vi comunque anche se non volete proprio usarlo per il problema delle ciglia corte sicuramente ve le rinforza poi un'altra cosa che ho notato è che perdo meno peletti cioè sapete che ogni tanto si trovano i peletti delle ciglia si perdono ecco io questo devo dire da quando lo uso ne perdo veramente anzi non mi capita più di vedere i peli delle ciglia a volte appunto li ritrovavo qui sinceramente è una cosa che mi ha anche stupita questa quindi questo prodotto ve lo consiglio se avete appunto questi tipi di esigenze se avete come vi dicevo prima delle ciglia da irrobustire oppure proprio avete delle ciglia corte e volete proprio acquistare un attivatore di crescita ma che veramente sia insomma qualificato e anche appunto per chi ha problemi di buchetti nelle sopracciglia comunque vuole infoltirle ecco un'altra cosa che volevo aggiungere è anche il fatto che io avevo già provato in passato degli altri prodotti che servono appunto come basi per il mascara o comunque per rinforzare le ciglia eccetera però nessuno di questi prodotti mi aveva sicuramente dato i risultati di questo quindi devo dire che questo confrontato ad altri prodotti che avevo provato in passato sicuramente la differenza è notevole il secondo prodotto di cui vi voglio parlare si chiama Under Eye Enhancer questo ed è contenuto in questa scatola molto bella a mio avviso e si apre ci sono le istruzioni e ovviamente le istruzioni dettagliate sono presenti in tutti e tre i prodotti che vi mostro dopodiché c'è all'interno della scatola fatto così qui c'è il prodotto vero e proprio che è adagiato su questo rivestimento di velluto perché questo qui è proprio velluto e quindi devo dire una confezione molto elegante e molto bella allora il prodotto si presenta in questo modo è così e ha una confezione di vetro con un tappo di plastica il tappo si svita e l'applicatore è fatto così è una spatolina allora devo dire che per la quantità di prodotto che va utilizzata perché ne va utilizzata veramente pochissima direi proprio un chicco di riso da mettere sotto gli occhi la quantità di prodotto contenuto nel vasetto è veramente tanta perché se guardate vedete cioè voi ne utilizzate ogni volta proprio un granello e quindi vi durerà tantissimo infatti sono 15 millilitri di prodotto e dura 60 mesi dopo l'apertura quindi ha anche una durata notevole allora che prodotto è questo? si potrebbe chiamare un correttore ma è totalmente diverso come principio e proprio come utilizzo dai correttori di profumeria ai quali siamo abituati perché innanzitutto la texture anche in questo caso è di un gel in colore diciamo con un colore piuttosto lattiginoso che però una volta applicato diventa trasparente e inodore anche in questo caso la funzione di questo correttore è quella praticamente di distendere e proprio camuffare i segni sotto gli occhi come ad esempio le borse o le piccole rughe per le occhiaie non penso sia indicato perché essendo in colore non va a cioè non è un correttore che va a coprire le occhiaie con semplicemente con un colore diverso che si applica sopra questo prodotto serve proprio a camuffare i piccoli segni senza ricorrere a trattamenti più invasivi come potrebbe essere ad esempio il bisturi eccetera quindi è proprio un prodotto cosmetico che vi dà i risultati di un lifting tanto è vero che questi cosmetici hanno proprio la filosofia della cosmesi lifting che non è vero che ci sono Grazie a tutti